Ciao, ciao! Come il cavaliere che arriva tatuato, col capello lungo, col giubbotto di pelle, che in fin dei conti all'inizio hanno quel timore, poi capiscono che possiamo proprio essere noi a tutelarli, con le nostre ali a proteggerli, perché alla confine siamo come dei custodi proprio per i bambini, non ci definiamo dei custodi, dei protettori. È il secondo anno questo qua che lo facciamo proprio a te, sì sì sì, è una bellissima soddisfazione perché siamo sommersi da bimbi. Abbiamo lì anche delle brochure che descrivono proprio anche degli striscioni, che descrivono proprio quello che noi facciamo in tutti gli aspetti. Abbiamo queste facce qua, in primis la mia, che comunque abbiamo un cuore, non siamo solo, non siamo fratti francescani, questo te lo posso assicurare, che non siamo fratti francescani, però abbiamo un cuore. E purtroppo la gente ti definisce classico drogato, classico attualizzato, motociclisti che vengono a giro a fare disastri, ripeto, non siamo fratti francescani, ma abbiamo un immenso cuore anche noi.